Lì c'è persona, non ti tradisce mai. La prego, dottor Magre, faccia qualcosa. Massimo D'Apporto, Amico Mio, la nuova serie. In prima tv, da giovedì 9 aprile, canale 5. Che gioia ogni mattina a svegliare la giornata con una fragrante nastrina calda di forno. Una brioche profumata, delicata, un piacere unico per dare più calori alla vostra colazione. Perché solo dall'alta qualità della pasta sfoglia nasce l'inconfondibile intreccio delle nastrine molino bianco. Sempre fragranti per una colazione che profuma di brioche. Nastrine molino bianco, chi mangia sano trova la natura. Cerchi uno shampoo che ti liberi dalla forfora? Prova Claire. Claire agisce sul cuoio capelluto eliminando i microorganismi in eccesso che causano la forfora. E senza forfora i capelli sono più vivi. Funziona! Claire, capelli più vivi senza forfora. Tutti i motori di Fiesta sono in alluminio, come un aeroplano. E sono tutti 16 valvole. L'airbag salva la vita. Di serie su ogni Fiesta. L'Elievra è un'azienda francese storica che produce tessuti d'alto livello. DHL lavora al nostro fianco. È la nostra immagine che viaggia nel mondo. Al cliente non dico mai no. E DHL non mi dice mai no. DHL. Manteniamo le vostre promesse. Siamo nella cucina di una normale casa italiana per la famosa inchiesta e i bambini ci guardano. Bambini, facciamo un gioco? Tra questi quattro prodotti naturali, secondo voi, qual è il più buono? Pensateci bene, eh? È quello? Abbiamo scientificamente dimostrato che per questi bambini iomoo è il prodotto naturale più buono che c'è. Come iomoo, c'è solo iomoo. Mamma, non mamma. Winner Taco, il nuovo snack croccante fuori con cioccolato e noccioline, morbido dentro con muo e gelato. E sentirai che nessuno ti può fermare. Winner Taco, snack all'ennesima potenza. Da Algida. Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo più. Perché non so che dire, quando mi guardi così, non riesco mai a finire. Un discorso senza flori, amore senza fine. Nuova Primera Vagon, in anticipo, sui tuoi desideri. No política. Giornata. Allora Comine.